La nuova scadenza ora è il 3 novembre. Per quella data la regione ha convocato il sindaco di Padova per parlare di ospedale e per sentire ufficialmente qual è il progetto futuro del comune, il quale probabilmente ribadirà la volontà di costruire il nuovo sulla sede del vecchio. L'opposizione non ha dubbi, quel giorno la proposta di Giordani e del vice sindaco Lorenzoni verrà bocciata. Ci sono delle indicazioni anche completamente sbagliate che saranno sbugiardate il 3 novembre direttamente dalla regione Veneto quando i tecnici regionali ribadiranno che sono sette anni che si continua a dire che il nuovo su vecchio non può essere realizzato. Sette anni durante i quali però anche la giunta Bitonci non è riuscita a far decollare il progetto nonostante la situazione fosse a loro dire così chiara. Intanto l'opposizione continua a definire Pinocchio e il sindaco anche se, precisano, è una definizione scherzosa. Aveva preso un accordo con il sottoscritto più volte, un accordo chiaro. Non aver voluto anticipare, aver aspettato la mia richiesta di inversione e l'ordine del giorno per poi farla bocciare dai propri consiglieri dopo aver fatto una promessa la trovo veramente una cosa altro che Pinocchio. Un uomo vero quando dà una parola la fa anche rispettare. Dal canto suo Giordani ribadisce di non avere autorità sull'ordine del giorno del Consiglio Comunale deciso dai capi gruppo e così ancora una volta le vittime incolpevoli di una situazione ingarbugliata più che mai sono i cittadini.